Prima di tutto voglio ringraziarvi, voglio ringraziarvi perché avete scritto, o forse anche avete inventato, delle storie magnifiche, delle storie veramente emozionanti, storie che mi hanno preso il cuore, che mi hanno affascinato e che ho letto con emozione vera. Vi ringrazio perché avete lasciato su questa pagina una parte di voi, sia voi che avete scritto la vostra storia, sia voi che avete letto le storie degli altri e le avete commentate. C'è chi ha raccontato l'incontro con l'amore della sua vita, c'è chi ha raccontato un tradimento intenso, emozionante, qualcosa che l'ha profondamente cambiato, tante hanno scelto, tante mamme, di raccontare il momento in cui la vita loro l'hanno data, il momento in cui hanno per la prima volta incontrato lo sguardo del loro bambino, molti di voi hanno scelto di raccontare magari l'incontro con uno sconosciuto, che però ha cambiato profondamente la loro prospettiva sul mondo, l'ha fatta diventare differente, altri hanno raccontato un momento buffo della loro vita, in cui però è accaduto qualcosa che non si dimenticheranno mai più. Tra tutti i racconti, tanti, che avete scritto e che tutti mi hanno emozionato, ce ne sono due che non sono riuscita a togliermi dal cuore. Il primo è la foto perfetta di Laura Jelenkovic. Laura racconta di un momento a Lusaka, in un orfanotrofio, lei fa la fotografa, è lì per fare un reportage e incontra lo sguardo di una bambina, una bambina diversa dalle altre, con questi occhi neri, profondi, che sta appoggiata alla parete di fango della sua capanna. Lei si avvicina perché vuole sceglierla per fare la sua foto, scatta questa foto, innamorata della dolcezza, della bellezza di questa bambina e poi si avvicina per ringraziarla e le sfiora la guancia con una carezza e la bambina trasalisce. Laura capisce che la bambina, la più bella tra le bambine di quell'orfanotrofio, è surda e è cieca. E lei dice con una frase veramente veramente toccante, che allora ha capito che era lei che non capiva nulla e si è messa a piangere. Il secondo racconto che ho scelto è completamente differente, è un racconto buffo, quella volta che incontrai il signor Righini di Stefania Ugi, Stefania lo racconta in prima persona e si fa chiamare Lorenzino, Lorenzino va in paese insieme alla mamma e incontra questo signor Righini e il signor Righini dice sempre delle battute tipo ah se avessi i capelli biondi come me ti chiamerei Canapino, però tornano a casa e la mamma quando racconta del signor Righini al papà ottiene un silenzio, uno strano silenzio che Lorenzino non capisce. Passano gli anni e un giorno Lorenzino ripassa da questo paese San Casciano vicino a Firenze e decide di andare a vedere che fine ha fatto signor Righini. Gli dicono che la bottega è chiusa, che sta in fondo al paese, lui va dal signor Righini che è sulla porta e Righini gli dice ah Lorenzino se avessi i capelli biondi e lui dice ah mi chiameresti Canapino, no, dice lui ti avrei detto che sono tuo padre.